Salve, salve da Marco Calabro per Amaci Casa Italia. Siamo oggi qui su incarico di EPUMO per fare una valutazione su un occhiale di Milano Living Luxury. L'occhiale che stiamo vedendo è il 091. Prima però di parlare dell'occhiale volevo parlare anche un secondo dei nuovi astucci che sta utilizzando Milano Living Luxury. Sono degli astucci che hanno un'apertura magnetica molto funzionale e come vediamo innanzitutto sono degli astucci molto ampi, adeguati all'ultima tendenza degli occhiali che sono piuttosto grossi. All'interno c'è una copertura di un velluto sintetico veramente gradevole. Come vediamo la chiusura è molto funzionale. La forma dell'astuce è una forma triangolare. Andiamo a vedere l'occhiale, questo 098. Innanzitutto parliamo delle etichettature che ci stanno. Vediamo innanzitutto la protezione casco. Che cosa significa? Milano Living Luxury è immagino l'unica che faccia questa cosa, ma insomma non saprei dirlo. Praticamente l'occhiale è protetto da danneggiamento, è protetto da smarrimento, è protetto da furto, da rapina, da protezione in debita. Nel momento in cui avviene sull'occhiale acquistato, avviene uno di questi eventi, Milano Living Luxury provvede alla sostituzione dell'occhiale. Andiamo avanti. La seconda che vediamo è una difesa di raggi ultravioletti. Una caratteristica che, questa qua, dobbiamo dire, rende onore a Milano Living Luxury. Perché il livello qualitativo dei suoi filtri è sempre comunque elevatissimo. Questa è una caratteristica fondamentale di Milano Living Luxury. Andiamo avanti. La terza etichettatura che ci garantisce che il prodotto è superleggero. Perché Milano Living Luxury utilizza dei filtri organici. Quindi sono dei filtri che, oltre a dare un livello di protezione straordinario, quindi una prima considerazione è questa qua, cioè il livello qualitativo è veramente buono, 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 ma hanno anche la caratteristica, essendo dei filtri organici, di essere estremamente leggeri. Quindi il prodotto a lungo andare non pesa. L'ultima cosa, l'ultima etichetta, la permuta garantita, anche questa è una considerazione da fare, nell'arco dell'anno Milano Living Luxury garantisce un valore di permuta del 50% del valore d'acquisto. In questo caso, questo occhiale che stiamo vedendo è un occhiale 0,91 che ha un prezzo di 127 euro. Andiamo a vedere l'occhiale. La prima cosa che vediamo sicuramente è la qualità dei filtri. Il secondo aspetto, secondo me, è molto positivo, è che si tratta di una struttura veramente bella, elegante, sia pure essa classica, comunque con degli aspetti che sicuramente sono molto moderni. Infatti vediamo che la stanghetta, per esempio, ha una struttura anatomica, perché nella parte finale si va ad adeguare completamente al nostro orecchio. Questa specifica montatura ha anche la caratteristica di avere questo filo metallico che inizia sulla parte frontale e progressivamente va sulla stanghetta. Questo lo rende sicuramente estremamente personalizzato. Il prodotto, che è un prodotto che va a sfumare, il prodotto ha un ponte classico. Vediamo anche l'ultima considerazione sul materiale del prodotto. Vediamo che il prodotto è anche abbastanza elastico. Questo significa che può essere sicuramente utilizzato su diversi tipi di viso. E questo grazie proprio a questa sua caratteristica. Stiamo parlando di un prodotto, questo di Milano Living Luxury, e lo 091, un prodotto che sicuramente è estremamente gradevole in termini estetici e molto buono dal punto di vista qualitativo. Grazie sempre per ascoltare i video di Amaci Casa Italia. Arrivederci al prossimo video.